Sono molto felice di aver potuto partecipare prima valutando, visionando e guardando il lavoro molto interessante che sono stati prodotti in questo terzo Master di Comunicazione Storica dell'Università di Bologna, dunque guardandole con calma, ritornando e confrontandomi con delle narrazioni di storia che non sono quelle che leggo di solito a stampa nei saggi e nelle riviste accademiche della nostra professione, ma sono i lavori di complemento di questa conoscenza professionale di storico, quelli che un Master può fornire, secondo me, delle conoscenze applicate, delle professionalità diverse che permettono di portare la storia verso diversi pubblici e di interrogare diverse tecniche e tecnologie di comunicazione, diversi linguaggi di comunicazione, come da quello che ho potuto vedere e giudicare oggi e da tutti questi ragazzi che sono stati premiati è veramente qualcosa di ricco e di molto variegato e di molto vario con diverse utilizze di tecnologie e di contenuti e di fonti, visto che siamo storici.